Zacinto mia, che te specchi nell'onde dei greco mar, da cui vergine nacque venere, e fea quell'isole feconde col suo prim sorriso. Forse è iniziato tutto proprio sulle orme di Ugo Foscolo e della sua ode a Zacinto, della cui pubblicazione la scorsa estate si è celebrato il bicentenario. In quella occasione il sindaco di Rocca Imperiale e il sindaco di Zante hanno gettato le basi per un gemellaggio artistico-culturale, partendo da tutto ciò che li accomuna, primo tra tutti lo stesso Marionio e la meravigliosa natura incontaminata. Come ti sei di esprubblico, questo bogliettismo, questo turismo, l'agrodicchia, l'economia. Abbiamo trovato le stesse cose, sia cultura, sia agricoltura, cioè gli alberi, olive, eccetera, eccetera. E speriamo che vengano anche i cittadini di Zazito qui per conoscere quello che abbiamo già noi trovato qua. Ed ecco che il grande giorno è arrivato. Lo splendido Castello Svevo di Rocca Imperiale, dove si è svolta una seduta straordinaria del Consiglio Comunale, è stato il testimone silenzioso di un momento storico per la città di Rocca. È una giornata importante perché iniziamo a ragionare su quelli che sono i temi del Mediterraneo e i temi della Magna Grecia. Sono quelli che ci interessano di più, quelli che noi vogliamo portare alla luce, vogliamo far scoprire alle nuove generazioni. Ed è un progetto ambizioso, non è solo teso a contaminare due luoghi, Zand e Rocca Imperiale, ma guarda invece ad allargare come una macchia d'olio quello che è un percorso, il percorso della Magna Grecia che da Zand attraversa la regione della Puglia e della Basilicata siano raggiungere la nostra Calabria per intera. Quindi io sono convinto che questo è un primo passo per mettere in campo un progetto ambizioso, proprio con Zand e con la Grecia, sui percorsi della Magna Grecia. Iniziamo da qui e siamo certi che la nostra regione e le regioni sapranno cogliere questo aspetto interessantissimo nella nuova programmazione. Grazie ad un protocollo d'intesa che punta a dare luce ai temi della Magna Grecia, Rocca Imperiale e Zante potranno candidarsi insieme nella nuova programmazione regionale ed europea. Questo è solo l'inizio di una sfida complessiva che punta a coinvolgere regioni e comuni bagnati dal Mediterraneo.